Non si può certo dire che abbia vita facile, tra le varie multispazio a sette posti, la Kia Carens deve competere con vetture come Citroen Gran Picasso, Ford C-Max 7, Renault Scenic e ora anche Fiat 500L Living. Eppure la casa coreana non solo si difende bene, ma va al contrattacco con un nuovo modello all'interno del segmento C. La nuova Carens punta su quattro elementi distintivi, la modularità, il design, la tecnologia e la qualità. Il tutto accompagnato da tre motorizzazioni disponibili, il 1.6 benzina da 135 CV e il 1.7 diesel in due versioni, da 115 CV e 136 CV. Noi stiamo provando quest'ultima, fra alcuni mesi arriverà anche un'altra variante che potrebbe risultare molto appetibile sul nostro mercato, ovvero la versione 1.6 GPL. Giunta la sua quarta generazione, l'MPV coreana si presenta con un look completamente rinnovato, aggiornamenti tecnici e una serie di soluzioni interessanti. A tutte le unità si affianca un cambio manuale a sei rapporti e ai motori diesel si potrà abbinare anche un cambio automatico a sei rapporti munito di pedal al volante. Grazie per la visione! Grazie per la visione!